Buongiorno, eccoci qui, Kostic alla Juventus, finalmente è fatta, in arrivo l'attaccante esterno serbo, una vera freccia. Come si può definire Kostic? Kostic è un assist man, uno che ha fatto l'anno scorso fra Coppa di Germania, Bundesliga e Europa League 37 assist a favore dei compagni, 37 assist in una stagione. E' stato protagonista della vittoria d'Europa League e dell'entrace francoforte. Quindi ragazzi, un ennesimo tassello importante per questa Juventus. Caro Allegri, ti abbiamo preso, non io giustamente, io parlo a nome di tutti i tifosi juventini, ti abbiamo preso pure Kostic. Quindi ti abbiamo preso Bremer, ti abbiamo preso Pogba, ti abbiamo preso Di Maria, ti abbiamo preso Kostic, ti abbiamo preso Gattica non è da sottovalutare. Adesso stiamo per lavorare per l'attaccante, insomma il vice Vlauric. Quindi si parla di Depay, l'unico modo per venire a Depay alla Juventus dovrebbe essere la recessione del contratto in modo tale che la Juventus potrebbe così fare il contratto al calciatore olandese. E già si parla di un biennale di 5 milioni all'anno. Qualora non dovesse rescindere Depay, io non penso che la Juventus lo comprerebbe. Comunque, caro Allegri, si virerebbe quindi su un altro attaccante. Caro Allegri, ti stiamo facendo la squadra, mi raccomando. Giorno 15 c'è Sassuolo, sicuramente non partirai con Pogba, non partirai con Chiesa. Ma i giocatori ce l'hai, ti hanno preso. Il miglior difensore della Serie A. Più il miglior difensore della Serie B, Gatti. Quindi siamo più forti l'anno scorso, non c'è dubbio. Perché l'anno scorso avevi Chiellini che oramai era pensionato. Avevi delitte che faceva tante delitte, chiamato da alcuni anche De Pippe. Quindi faceva tante di Pippe. Quindi ti abbiamo preso il difensore più forte della Serie A. Il difensore più forte della Serie B. Uno dei centrocampisti più forti d'Europa, Pogba. Anche se tutti dicono che è rotto. Quindi non ce l'hai ora, ma ce l'avrai a settembre. L'assistman Kostic, che è uno che è una freccia questo. È un giocatore sempre grindoso, che fa assist e ogni tanto fa anche qualche gol. Può giocare sia a centrocampista di fascia che ad esterno d'attacco. Ti abbiamo preso pure Di Maria, che può essere oramai al tramonto della carriera. Però è sempre un fuoriclasse. Quindi ti abbiamo preso pure un fuoriclasse in questa squadra. Mentre l'anno scorso aveva un dibala, a mio modo di vedere, finito. Quindi, adesso stiamo lottando per portarti anche il vice Blauic. Non ci sono cazzi. Portaci lo scudetto. Nessun alibi. Nessun alibi. La Juve deve vincere il campionato. O quantomeno, anche se è difficile, dobbiamo provarci. Dobbiamo provarci. Quarto posto quest'anno non se ne parla. Dobbiamo essere lì. Fra i primi tre posti. Se poi, praticamente, tu non andrai bene a dicembre, secondo me quest'anno non ti mangi neanche il panettone. Quindi, forza. Vogliamo i tre punti di corsa a suolo. Benvenuto a Kostic. E ci aggiorniamo più in là se dovesse venire un attaccante che penso sia Depay. Ciao a tutti e sempre forza io. Ciao a tutti.